Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo della reaction di Sampdoria-Bologna, partita terminata appena da 5 minuti e finita con il punteggio di 4-1 per la Sampdoria, una partita dominata dalla squadra bruciarchiata dal primo al novantesimo minuto. Una vittoria molto molto importante che fa volare la Sampdoria in zona Europa League. 19 punti per la Doria, invece sempre più a rischio retrocessione il Bologna di Inzaghi, che ormai rischia anche la panchina. Una Bologna mai in partita che era riuscito però a pareggiare nell'inizio della partita con un gol di Poli. Il vantaggio iniziale di Praet, una partita però che ha visto ancora una volta una prestazione clamorosa dell'ormai bomber ultra 35enne, ma sempre un grandissimo giocatore, Fabio Quagliarella, doppietta per l'attaccante di Castellamale di Stabia, ancora a segno dopo il gol nel derby e ancora una volta uno dei attaccanti più prolifici italiani in questo momento. Questo veramente fa pensare che veramente non ci sono più le prime punte di una volta perché Quagliarella veramente ha sempre segnato e rende complimenti a Fabio Quagliarella, ancora protagonista del nostro campionato. Una doppietta, un gol nel primo tempo che aveva riportato avanti la Sampdoria e poi il gol che ha chiuso definitivamente il match nel secondo tempo, fissando il punteggio nel 4 a 1. A fine primo tempo il gol che ha dato anche il vantaggio, che ha arrotondato il vantaggio della Sampdoria con Gaston Ramirez. Il trequartista della Sampdoria, il giocatore forse in questo momento in più di questa squadra che sta stupendo ancora tutti quanti e complimenti al mister Giampaolo che secondo me in due stagioni a Genova veramente, in queste ultime stagioni a Genova veramente sta riportando la luce a questa società che in settimana ha trascorso forse una settimana molto molto negativa con la questione di Ferrero ma che oggi è tornata a dimostrare sul campo quanto vale. È una squadra sicuramente che può lottare per la posizione in Europa League e quindi un'altra sorpresa secondo me di questo campionato che fa sempre delle squadre abbastanza fatte da giovani, da nomi non da gente strappagata ma da giocatori giusti e in tutti i ruoli. Un altro giocatore che secondo me bisogna sicuramente parlarne è Praet che veramente è un giocatore strepitoso, questo anno ha anche accostato la Juventus in estate, poi non si è fatto nulla però ragazzi questo è un giocatore di talento che lo sta dimostrando nelle ultime stagioni. E niente, la Sampdoria secondo me ha meritato, è giusto il punteggio finale perché veramente questa questa sera si sono viste proprio tutte le lacune della Sampdoria, del Bologna scusate, che rischia, rischia come ho detto all'inizio del video, rischia la retrocessione perché ha sbagliato secondo me la campagna acquisti, dovrà sicuramente fare qualcosa nella campagna invernale di calciomercato per acquistare giocatori che porteranno il Bologna alla salvezza. Per questa reaction è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate un like al video e commentate, secondo voi se chi è stato il miglior giocatore di questa partita io direi Fabio Quagliarella tutta la vita e seguitemi su Facebook e Instagram. Ciao a tutti ragazzi!